Ben trovati, articolo 21, oggi parliamo del comune di Chiesina-Ozanese, un comune che andrà all'elezione del sindaco al primo turno, in quanto la popolazione è sotto la soglia di 15.000 abitanti, esattamente a un censimento del 2022, 4.453. Viene eletto il sindaco, il candidato che ottiene il maggior numero dei voti. E allora conosciamo i candidati a sindaco del comune di Chiesina, a partire dalla mia sinistra Fabio Berti, che si candida intanto sindacusciente, si candida con la lista ancora insieme, sostenuto dai partiti del centrodestra Uniti, ovvero Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, a seguire Carlo Cortesi della lista Chiesina e le sue frazioni, sostenuto dal Partito Democratico. Quindi in questo caso abbiamo uno scontro fra il centrodestra di Fabio Berti e il centrosinistra di Carlo Cortesi. Allora, come è noto, parliamo di argomenti ovviamente che interessano i cittadini, il comune, sono quattro temi, tre minuti per rispondere ad ogni domanda. Partiamo con la prima, parliamo di commercio. Partiamo con Fabio Berti, abbiamo fatto l'estrazione a sorte di chi cominciava prima, è venuto fuori appunto, è uscito Fabio Berti. Commercio. Chiesina Uzanese ha sostanzialmente il centro del paese come fulcro della vita commerciale, ha anche però un'importante area industriale e commerciale, lungo via Camporcioni, via Livornese, c'è anche un mercato settimanale che avrebbe necessità di essere rilanciato. Quali sono i vostri progetti su questo tema, su questi temi? Fabio. Intanto grazie per l'opportunità che ci date di poter parlare del nostro comune. Faccio un grande boccalupo alla squadra di TVL dopo la perdita del caro direttore Bardelli. e quindi un abbraccio a tutti. Il commercio di Chiesina è ripartito grazie anche alla politica che questa amministrazione ha voluto mettere in gioco e sono vari contributi per chi apre nuove attività, sono sgravi fiscali per chi appunto rileva dei fondi che sono stati dismessi magari nel giro di sei mesi. Quindi se io rilevo un'attività che è sei mesi che è chiusa, ottengo praticamente un enorme vantaggio sulla Tari e un enorme vantaggio anche da un punto di vista di quello che sono le prospettive per quello che riguarda l'attività stessa. In più ottengo un contributo alla fine dell'anno per quello che è stata la mia voglia di aprire un'attività. Lo dico molto spesso che Chiesina è molto più famosa per le attività che ci insistono, mi rifaccio all'attività storica come potrebbe essere un Don Carlos o addirittura la vecchia discoteca Concorde che è famosa in tutta Italia, ma ci sono tantissime attività di vicinato che portano molte persone anche oltre la Valdinevole a Chiesina ozzanese. Spesso si parla di ristorazione o pizzerie. Quindi questo è sicuramente un valore aggiunto che ha fatto forza nel volere incentivare anche altri ad aprire dei fondi commerciali. La nostra parte industriale artigianale è forte, ma forte davvero per la qualità delle aziende e la quantità delle aziende. Abbiamo molta più richiesta di capannoni e fondi artigianali di quella che è l'offerta. Quindi Chiesina da quel punto di vista è sicuramente un bollino rosso da tenere sotto osservazione perché ho sentito tanti altri sindaci avere l'idea di mettere delle incentivazioni per le nuove aperture. Per quanto riguarda il mercato settimanale rilanciarlo non è semplice perché oggi le licenze non costano più come prima, sono svalorizzate anche da un punto di vista economico, fanno fatica anche gli ambulanti stessi a riciclare la licenza perché a sorteggio uno trova un posto e diventa più difficile. Qual è l'altra difficoltà che trovano? Gli spazi. Oggi noi abbiamo individuato uno spazio bello, fruibile e quindi è meno, diciamo, sentimentalmente preso che dal centro del paese. Ma per chi lavora e per chi va al mercato l'ubicazione attuale è l'ideale perché anche come sicurezza che dobbiamo tenere di conto è importante che ci sia comunque tutta la componente sicurezza. Carlo Cortesi, commercio, zona commerciale artigianale, mercato settimanale, per il centro destra tutto va bene, cosa c'è da migliorare, se c'è da migliorare, quali sono i vostri progetti? Allora io ne approfitto, spendo anche io qualche secondo per ringraziarvi per l'invito e per fare un in bocca al lupo a tutta la nuova direzione che senz'altro saprà mantenere quel ruolo importante dell'informazione locale che non è solo locale con digitale terrestre per la nostra provincia e per la Val di Nievole e quindi anche soprattutto per il Comune Chiesina-Ozzanese. Sul commercio prima di tutto c'è da dire una cosa che si dà spesso per scontato, ma c'è da fare un ringraziamento e augurare un in bocca al lupo a tutti quelli che decidono di aprire un'attività in questi tempi, specialmente in un paese piccolo come Chiesina che ha da una parte la sua punto di forza, cioè l'essere un paese a misura d'uomo, ma i limiti che ha non solo Chiesina ma in tutta Italia, forse anche più altro, un paese piccolo come il nostro. Noi vogliamo per il centro storico impegnarsi con le associazioni categorie e con le attività storiche e le nuove attività per creare un centro commerciale naturale che anche nei comuni vicino a Chiesina fa molte attività e è in grado di intercettare finanziamenti dalla regione e da altri soggetti. Vogliamo sì valorizzare le nuove aperture ma anche difendere quelle esistenti perché ad esempio basta vedere i dati pubblicati sulla Camera di Commercio, dal 2010 al 2023 a Chiesina Ozzanese le attività commerciali sono calate più che nel resto della provincia. È evidente che quanto fatto fino a ora non basta. E come si fa ad aiutare le attività commerciali? Si fa migliorando servizi, ad esempio creando quei parcheggi che da tempo mancano nel centro storico, con un parcheggio che è un progetto da una ventina d'anni vicino via Garibaldi, migliorando e qui parlo ad esempio più per le attività artigianali e le attività industriali, tutta quella che è la connessione alla rete, fibra, perché purtroppo Chiesina Ozzanese è in quelle zone cosiddette fallimento di mercato e bisogna lavorare per inserirla di nuovo nei cluster per riportare anche Chiesina all'interno dei finanziamenti per la fibra ottica. Venendo ad esempio c'è la questione della Taric, ci sarà da informare e da assistere alle attività commerciali artigianali e le imprese nel comprendere la nuova tariffa che è in vigore al nostro comune dal gennaio e con le tariffazioni che sono partite dal primo d'aprile. E poi concludendo sul mercato settimanale, noi nel programma prevediamo appunto di dare una collocazione definitiva al mercato, ovviamente facendolo insieme all'attività, sia alle attività ai banchi che ha l'attività in sede fissa, a bar, ristoranti e alle attività che sono nel centro storico, perché va scelta la sede migliore e più sicura e dovunque si metta ad esempio qualche banco, noi facciamo il mercato lì dall'inizio della campagna elettorale, ci ha suggerito di poterlo fare d'estate in Piazza Mazzini, in inverno nel centro storico. Dovunque si scelga va attrezzata un'area con attacchi alla corrente elettrica, punti per lo scarico dei rifiuti, va fatta una comunicazione migliore e puntuale e va garantita la sicurezza sia dei cittadini, dei commercianti, ma anche di tutte le altre attività. Perfetto, parliamo al secondo punto, il decoro urbano, quali progetti avete per recuperare lo stabile confiscato alla mafia? Qui è un tema molto specifico e molto preciso, è quello in Piazza Vittorio Emanuele II, quello che confina con la parrocchia, se ne è parlato molto, è già qualche anno che è lì che aspetta di essere ristrutturato, reso agibile, fruibile per la comunità di Chiesino Zanese. Carlo Cortesi. Allora, noi su quel bene abbiamo insistito fin dall'inizio, che è stata assegnata al Comune di Chiesino Zanese, definitivamente a dicembre 2023, abbiamo insistito perché di quel bene si parli e si faccia la storia, apparteneva più o meno, non era proprio una figura di primo piano, ma apparteneva a qualcuno legato a una andrina d'indrangheta della città di Reggio Calabria. Va spiegato perché è stato confiscato, di chi era, perché i beni confiscati, il percorso di riappropriazione da parte della cittadinanza passa anche dalla consapevolezza verso i cittadini di quella storia del bene, del percorso che ha portato la criminalità organizzata a investire nel nostro centro cittadino e va ridato alla popolazione, perché è proprio lo spirito della legge, l'unione della torre per la riconfisca e la riassegnazione dei beni. Noi ad esempio lì abbiamo pensato e proponiamo di farci una casa d'associazioni, perché negli incontri che abbiamo fatto da fine dicembre e anche fino a questi giorni con l'associazione Le realtà del nostro territorio, da più parti è venuta la necessità di avere uno spazio per avere semplicemente una scrivania, un armadietto per fare piccoli incontri, una sala riunioni, anche per riunire fisicamente le tante associazioni che sono nel paese. E questo deve essere appunto uno strumento per ridare quella vitalità alla piazza, perché hai fatto bene ad inserire il decoro urbano e metterci il bene confiscato a un piazza Vittorio Emanuele, perché il decoro urbano e la riqualificazione del centro storico, ma di un paese in generale, si fa se il paese è vivo, si è vissuto, si è frequentato. Lì accanto c'è il circolo parrocchiale, i locali della parrocchia che hanno avuto dei problemi negli ultimi anni, attualmente sono quasi chiusi, ora su questo non ci voglio entrare perché non è competenza della politica discutere di quelle cose, però il Comune può fare, può aiutare anche quei soggetti, ad esempio noi ci impegniamo ad investire quelle risorse degli onio urbanizzazione che la legge prevede che andrebbero distribuiti per le realtà sociali e socio-associative, che molti comuni lo fanno, è vero, non solo chiesina, cioè di non applicare fino a un fondo la legge e destinare gli onio di urbanizzazione, noi lo vogliamo fare e lo vogliamo fare perché quella parte di piazza e quella parte del centro storico va riqualificata aumentando servizi, pensiamo ad esempio a una casa della comunità, la vecchia casa della salute, pensiamo a una bottega della salute che sono attività, possibilità che promuovano anche lanci per offrire servizi sanitari a cittadini, noi pensiamo che appunto il decoro urbano passi dal bene, dalla parrocchia, ma passa principalmente da rendere di nuovo vivo e accessibile e appetibile il centro, con soluzioni innovative che vanno dal co-housing per le abitazioni a spazi di co-working che poi senza usare tanti inglesismi è semplicemente un condividere spazi comuni sia sul luogo di lavoro che nelle abitazioni, sono soluzioni innovative che non si fanno, forse non si sono mai fatte nei piccoli paesi qui in zona, ma proprio perché Chiesina è sempre stata un'eccellenza, noi siamo sicuri che sarà possibile farli e farli bene. Fabio Berti, stessa domanda, il bene confiscato alla mafia, si parla di un qualcosa, un edificio che oramai è lì da diversi anni in quelle condizioni, va recuperato, come e quale sarebbe la sua destinazione ideale? Intanto c'è da precisare alcuni punti, il bene confiscato noi abbiamo subito fatto le istanze al Tribunale perché fossimo ritenuti tra gli interessati ad averlo come bene, vuoi perché insiste sulla piazza, vuoi perché è adiacente agli spazi dell'oratorio e vuoi perché come decoro sarebbe importante recuperare quell'edificio per dare anche alla piazza poi dopo tutta una nuova visibilità. Quindi ci siamo messi in contatto con il Tribunale prima facendoci mettere in condizioni di riuscire nella sicurezza del parco e del giardino perché insistevano delle piante difficili da gestire e quindi siamo intervenuti per mettere in sicurezza tutta l'area in attesa che ci venisse poi definitivamente dato il bene. Questo è successo a dicembre, ora la legge regionale prevede che entro il gennaio dell'anno successivo per tutti quei comuni beneficiari di un bene confiscato con un progetto fatto che abbia un senso possano aderire poi a avere quei fondi che sono stabiliti e stanziati. Ora noi abbiamo avuto sette, otto colloqui, videochiamate con gli uffici regionali e ringrazio pubblicamente gli uffici tecnici per questo lavoro fatto perché non c'era neanche il tempo per valutare tutto quello che potevamo andare a fare ma abbiamo portato lì un progetto che avesse un senso, un senso di comunità lasciandoci gli spazi per i giovani, lasciando tutto uno spazio che poi possa essere anche utilizzato dalla comunità per mostre, incentivazioni alla scultura, alla pittura, alle presentazioni dei libri, uno spazio all'aperto per l'estate dove poter fare della musica. La casa delle associazioni l'abbiamo inaugurata un mese fa a Murin Nuovo, all'ex circolo, intitolandola a un amico, a Francesco Magrini. Quindi noi abbiamo ritenuto opportuno riciclare quell'edificio e metterlo a disposizione delle associazioni, dando invece a questo bene confiscato che rimane sulla piazza e la targa che è affissa nell'abitazione accanto, ahimè, andrebbe spostata perché è lì che invece è nato si face, che è stato forse il chiesinese più famoso della nostra storia, un cantante di quel tempo, lo chiamavano Castrati e oggettivamente quella è la casa dove è nato. Gli spazi non sono tanto grandi, sono tre piani dove noi dovremmo andare a intervenire per la sicurezza, dovremmo andare a mettere un ascensore che possa consentire ai disabili di arrivare fino magari al piano primo. Dobbiamo fare degli interventi strutturali importanti, una parte di questi era già stata prevista, una parte l'andremmo a fare noi. Parliamo di sanità, parzialmente l'avete anticipato, però vorrei che scendeste un po' più nel dettaglio. Servizi sanitari più vicini alle persone, rapporti con le associazioni di volontariato, quali sono i vostri progetti, cosa intendete fare per i prossimi cinque anni per raggiungere appunto questi due obiettivi, quindi avvicinare la sanità ai cittadini, anche da un punto di vista proprio del territoriale, del comune e i rapporti con le associazioni. Ripartiamo da Fabio Berti. Sul nostro territorio da più di 40 anni insiste la pubblica assistenza. La pubblica assistenza oggi con la nuova struttura, agli spazi disponibili, agli ambulatori, potrebbe ancora di più riuscire a servire i cittadini anche nel bisogno di un qualcosa di immediato. Nel nostro programma abbiamo inserito l'idea di creare un tipo, un pronto soccorso per le minime piccole fratturine, un taglio, un malore, un colpo di calore. Quindi cercare di essere pronti e di avere a disposizione dei medici che laddove avessero la disponibilità poterli mettere a disposizione. Magari con un orario consono e evitare a tutti di fare la fila pronta soccorso magari per un qualcosa di non gravissimo. I rapporti con le associazioni sono stati in questi cinque anni importanti perché tutte le associazioni nel momento in cui abbiamo attraversato il periodo della pandemia si sono messe a disposizione sia dell'amministrazione comunale sia delle persone. Non è mancata la collaborazione, non è mancato l'appoggio e quindi è lungo l'elenco ma li ringrazio tutti perché lo sanno che in quel momento abbiamo avuto noi bisogno di loro e le persone bisogno di questo conforto e di questa mano lunga che arrivava un po' in tutte le abitazioni. Con la pubblica assistenza facciamo molti servizi, chiaramente servizi alla persona, i servizi anche per il trasporto dei ragazzi disabili nelle scuole e poi loro hanno comunque come obiettivo essere presenti sul territorio in tutte le manifestazioni. Oggi ci siamo avvicinati anche alla Croce Rossa con la quale abbiamo cercato di intensificare i rapporti, voi anche sotto il profilo di una protezione civile che abbiamo istituito con i Cavaliari di Malta e con l'Associazione Nazionale dei Carabinieri. Quindi abbiamo tre corpi che ci supportano e quindi si spera di non avere mai bisogno come protezione civile ma ci sentiamo abbastanza tutelati da quel punto di vista. Ripeto, la sanità oggi le persone la vedono in un modo anche a volte sbagliato perché il nostro ospedale fa un po' fatica e tante volte andare al pronto soccorso diventa un disincentivante perché hanno paura di stare lì delle ore per niente. Quindi è chiaro che il nostro progetto, la nostra idea potrebbe essere davvero un volano e mi rifaccio al laser, mi rifaccio anche agli organi competenti perché a quel punto lì darci una mano sgraverebbe e decongestionerebbe anche il pronto soccorso da tutte queste piccole cose che invece giornalmente sono supportati e devono affrontare. Sì, siamo praticamente a tempo scaduto. Allora, sanità, Carlo Cortesi, servizi sanitari potenzialmente più vicini alle persone e rapporti con le associazioni. Che cosa intendete se avete dei progetti in questo settore per i prossimi cinque anni in un eventuale vostro governo? Allora, sulla sanità noi abbiamo dedicato una buona parte del programma Sanità e Sociale e anche alle associazioni. Ovviamente c'è da fare una premessa che tutto quello che sono politiche sanitarie le risorse purtroppo non le decide il Comune ma le decide la Regione accaduta dal governo e quindi è evidente che i nostri buoni propositi si devono incontrare con le risorse che ci vengono messe a disposizione. Noi pensiamo di fare a Chiesina appunto una casa della comunità che poi sarebbe le case della salute, le hanno cambiato nome perché fanno anche altri servizi, ma fanno appunto servizi sul territorio perché col Covid si è visto purtroppo che non si deve ingolfare la rete, l'ospedale e questo si fa come? Aumentando l'offerta della rete sanitaria sul territorio. Quindi per questo l'idea è anche di provare a costruire una struttura di questo tipo in uno dei tanti immobili nel centro o comunque vicini al centro senza danneggiare i servizi che già oggi le nostre associazioni di volontariato offrono. A Chiesina abbiamo una pubblica assistenza che appunto è attiva, che vive e che si dà da fare, una misericordia che ha ridotto le attività ma che comunque è presente da più di un secolo nel nostro Comune e vogliamo lavorare tutti insieme. In questo senso sulla parte diciamo quello che è un coordinamento delle associazioni, noi vorremmo creare un coordinamento strutturale di protezione civile partendo dall'associazione del territorio perché così facendo si valorizzano le realtà già presenti, anche le nostre associazioni già formate e qualificate per fare anche tutto quello che è safety agli eventi e protezione civile con la premessa che l'obiettivo e la speranza di non doverlo usare mai, su questo sono d'accordo. E un altro punto importante che è molto sentito da tanti chiesinesi, chiesinesi più o meno giovani, anzi in particolare giovani, intervenire a difesa dell'ospedale di Pescia ma intervenire a difesa dell'ospedale di Pescia? In questo senso io ho partecipato anche alle iniziative del Comitato Salviamo l'ospedale della Val di Nievole, è una decisione giusta chiamarlo così perché l'ospedale non è l'ospedale che serve la città di Pescia, è un pedale che serve la Val di Nievole e questo si fa difendendo quella struttura come facendo investimenti, puntando magari anche su qualche settore d'eccellenza e però senza dimenticare che serve un pronto soccorso che funziona, una chirurgia che funziona, avevamo una maternità che funziona, che funzionava, che attualmente è chiusa e è in fase di riorganizzazione. L'ultima notizia dell'altro giorno ci danno appunto che si è reinvestito su altri settori, i reparti migliorati, la strada deve essere quella e questo si farà anche attraverso una rete territoriale che appunto alleggerisce, che alleggerisce questo e che lo fa anche insieme alla Società della Salute, lo fa insieme a tutta l'associazione di volontariato, noi a Chiesina abbiamo la fortuna di avere una rete che vive da decenni e che è pronta a fare la sua parte col Comune che gli dà una mano. Bene, allora noi ci fermiamo qualche minuto, non andate via ovviamente perché appunto torniamo dopo la pubblicità con articolo 21. Articolo 21, stiamo presentando i candidati sindaci al Comune di Chiesino Zanese, Fabio Berti, sindaco uscente, lista ancora insieme, sostenuto da Lega Fratelli d'Italia e Forza Italia, quindi il centrodestra unito, Carlo Cortesi, lista Chiesina e le sue frazioni, sostenuto da Partito Democratico. Ultimo argomento da trattare, parliamo di scuola, un tema caldo degli ultimi mesi a Chiesina, appunto è stato quello della scuola, che progetti avete per migliorare il servizio scolastico a 360 gradi in merito alla sicurezza, all'accesso ai servizi, al servizio mensa e dopo scuola e al trasporto. Se non sbaglio deve partire Carlo Cortesi. Perfetto, allora vado per ordine di grado. Partiamo dalla scuola dell'infanzia o dagli asili nido. È stata riassegnata la gestione dell'asilo nido a Chiesa Nuova, che era una vecchia scuola storica della frazione. Quello che noi diciamo è che per il futuro ci impegniamo a fare bandi per l'assegnazione di strutture come l'asilo nido non basate esclusivamente sul criterio economico, ma facendo il possibile per inserire nel bando di gara dei punti che qualificheranno anche l'offerta, perché ci sembra riduttivo affidare la gestione di un asilo solo sulla base dell'affitto che si presenta. Per fortuna è stata assegnata una struttura, una realtà di assoluta qualità, ma poteva anche andarci male. Per Chiesina, per le scuole elementari, chiamiamole come si chiamavano prima, il problema che noi segnaliamo è questo, che ci viene riportato dalle famiglie, anzi diciamo sono due. Il primo è quello del trasporto pubblico, degli scuolabus. È innegabile che il servizio scuolabus negli anni in tutti i comuni ha registrato delle difficoltà, sia dal punto di vista della necessità di coprire costi, che dal punto di vista dell'utenza e di chi lo sfrutta. Però quello che noi diciamo è che le scelte che vanno fatte vanno fatte con la massima trasparenza. Lo scorso anno scolastico venne deciso a maggio-giugno di ridurre i fulmini da 2 a 1 e alle famiglie gli è stato detto a settembre a scuola iniziata. Di conseguenza ci si è ingegnati per creare un parcheggio mettendo un senso unico che poi è stato tolto, chiudendo la strada e poi riaprirla. Questo non deve più succedere. Proponiamo di fare una gara anche con i comuni vicini per provare a aumentare i concorrenti e offrire maggiori opportunità. E sulla scuola quello che noi diciamo è che secondo noi, comprendendo il fatto che le risorse assegnate andavano spese entro un certo termine, ma ad esempio si poteva fare come si è fatto a Ponte Bugianese che si è intervenuto sulla scuola elementare spostando parti degli alunni in un altro edificio e così il cantiere non andava a intaccare l'attività scolastica come avviene ora invece alle scuole elementari. Soprattutto ci sarà da capire dove ricollocare il giardino che adesso verrà occupato dalla nuova mensa e ci segnalano criticità nell'organizzare il turno della Mersa su un turno unico come è ora, semplicemente perché mettendo tutti i ragazzi in un ambiente nuovo e grande rischia di diventare una situazione caotica. Sulle scuole medie c'è importante intervenire per garantire la sicurezza all'esterno. È stata messa una rete la sua settimana, bene, però non basta, c'è da migliorare l'illuminazione, c'è da migliorare anche il controllo che passa da un impianto d'allarme alla videosorveglianza e questo vale sia per le scuole elementari che per le scuole medie perché purtroppo in entrambi i flessi, specialmente agli elementari, sono stati molti casi di furti e di intrusioni per rubare quei pochi spicci delle macchinette. Quindi gli interventi da fare sono tante, il tutto condividendo con massima trasparenza con le famiglie, con gli alunni e col personale. Fabio Berti, scuola intesa come servizio offerto agli alunni, alle famiglie, quindi si parla di sicurezza, sicurezza intendo ovviamente dell'edificio, all'accesso ai servizi, al servizio mensa e dopo scuola, al trasporto pubblico. Cosa pensate di migliorare di quello che avete fatto eventualmente in questi cinque anni e quindi migliorarne nei prossimi? Allora, partiamo per i gradi. Per quanto riguarda la scuola elementare che è stata oggetto un po' più di attenzione nell'ultimo periodo, è dovuto al fatto che nella retrostante del giardino c'è il cantiere per l'ampliamento della mensa, quindi a breve finiranno la lavorazione di quel cantiere. Nel frattempo, grazie anche al lavoro degli uffici, abbiamo ottenuto un finanziamento di oltre un milione di euro per la messa in sicurezza della sismica su quella struttura, che partirà entro la fine dell'estate il cantiere. Quindi è inevitabile che ci sarà una concomitanza tra scuola e lavori, perché il lavoro prevederà una durata di sette o otto mesi. Ora stiamo valutando il trasferimento in una parte della scuola e quindi nel momento in cui iniziano i lavori, avendo delle aule disponibili, potendo sfruttare lo spazio mensa, si liberano delle aule e probabilmente riusciremo a spostare i ragazzini dove ci sono i lavori da una parte all'altra della scuola. Ci sono già oggi delle aule libere da poter utilizzare. E avremmo forse una delle poche scuole in tutta la provincia che ha l'antincendio, la sismica, l'efficientamento energetico, perché abbiamo cambiato le porte, le finestre, tutti gli infissi. Quindi la tettoglia fuori è antisismica. Quindi abbiamo una struttura che fa invidia alla maggior parte delle altre strutture. Ci sono tutte le aule con la LIM, quindi sono quelle famose lavagne elettroniche che oggi vengono tanto richieste anche dalle famiglie. Non è un caso se nelle nostre aule dove ci sono 20, 24 ragazzini, ci sono ragazzi che arrivano anche da altri comuni, perché la nostra scuola è a misura di bambino, la nostra scuola usufruisce di un bel corpo docente che ha un bel rapporto e tutto il comparto, devo dire la verità, è sempre stato molto vicino ai ragazzi e alle famiglie. Come lo è stato l'amministrazione? Tutti i passaggi che abbiamo fatto, che abbiamo programmato, sono stati ampiamente discussi. Anche l'eliminazione di un giro del pulmino, è più di un anno che se ne parla. Abbiamo fatto degli incontri, abbiamo spiegato dove avremmo installato i punti di raccolta, abbiamo fatto tutta una serie di interventi per far sì che il disagio venisse meno. Abbiamo fatto un incontro a scuola iniziata per definire nei dettagli le criticità e le abbiamo risolte nel giro di tre giorni, pur con la consapevolezza che un giro di pulmino è comunque importante. Andremo a fare un nuovo parcheggio nel retrostante per facilitare l'ingresso e l'uscita dei ragazzi con i pulmini. Andremo a mettere in sicurezza la scuola media a breve dopo un intervento che anche quello è stato valutato insieme. Quindi secondo me le nostre scuole vanno, 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 ma di molto bene. Allora, siamo al termine di queste domande, di questa serie di temi che abbiamo affrontato. Ora c'è l'epilogo di questa puntata con l'appello al voto. A voi se fare un appello al voto o come vi ho detto in apertura approfondire qualche tema che abbiamo toccato o parlare di qualcosa invece di cui non abbiamo parlato. Quindi sta a voi la scelta. Intanto lo spazio è un minuto. Partiamo da Fabio Berti. Approfitto di questo minuto per chiedere ancora oggi un aiuto, perché di questo si parla. Aiutarci a amministrare il nostro paese così come abbiamo fatto in questi cinque anni. Molti progetti, avete capito, sono stati già finanziati a partire dalla rotatoria sulla via Ponte della Ciliegia e la Circonvalazione. Abbiamo già ottenuto i soldi. Di tanti altri progetti abbiamo già ottenuto i fondi. E quindi ci teniamo particolarmente a portarli avanti. Avete visto lo spazio sportivo dove andremo a insistere con un spogliatoio, con le docce, con un barrettino. Quindi avremo anche lì modo di investire. Avete visto il bellissimo progetto fatto sull'inclusione con la cartellonistica che oggi coinvolge anche tante attività commerciali e ha visto venire a Chiesina per la seconda volta il Ministro delle Disabilità che ha anche voluto mettere fuori dalla porta al Ministero il nostro disegno con il logo del Comune dove c'è praticamente il simbolo della sua porta e della sua attività. Vi chiedo ancora, dateci una mano, votate la nostra lista. Grazie, scusa. Carlo Cortesi, un minuto di tempo, appello al voto o approfondimento di un tema a piacere? Prego. Allora io chiudo con un appello al voto ricordando che con me sono candidati sei uomini, sei donne che si stanno impegnando per il Consiglio Comunale, per Chiesina, per Chiesa Nuova, per Capanna e per Mulinmovo. E molti ci chiedono perché si deve cambiare. Perché al campo sportivo dei faretti e l'illuminazione ne vanno un terzo e gli spogliatoi sono ridotti optimale. Perché appunto si fanno i lavori alle elementari con la scuola aperta, col cantiere installato nell'unico giardino presente e montando il cantiere sul campo da basket appena inaugurato. Perché si fa una nuova rotonda ma andrebbe fatta in un'arto incrocio e non per quello che va a Michi. Perché sotto elezioni arrivano le telecamere ma da anni non si vede un vigile per chi non rispetta sensi unici. Noi per Chiesina abbiamo un programma concreto che guarda Chiesinesi negli occhi e non dall'alto a un basso. Per questo chiedo a tutti di votare sabato 8 e domenica 9 giugno la lista Chiesina e le sue frazioni e di eleggere Carlo Cortesi sindaco. Bene, allora grazie ai nostri due candidati sindaci. Fabio Berti, lo ricordiamo, lista ancora insieme e sostenuto dal Lega Fratelli d'Italia e Forza Italia. Carlo Cortesi, lista Chiesina e le sue frazioni con il sostegno del Partito Democratico. Noi ci fermiamo qui abbiamo presentato ovviamente il comune di Chiesino Zanese.